Palla ancora per Di Domenico, c'è De Nigris che parte dalla difesa, ancora Pablo palla in verticale a cercare Ceperano sullo scatto, Ceperano contro Nicoliela, quando è messa in mezzo, capasso la parata. Palla messa in mezzo a Bagalliani, pallone in alto, sopra la traversa, messa dal fondo, andrà a Caffasso, lungo l'angio di Caffasso, pallone decertato a Bagalliani, poi Ceperano, prova a cambiare per Ricciardi. Guarda Ricciardi, la palla ancora per Ceperano, buona l'azione, pallone per De Nigris che potrebbe caricare anche il destro, è così, pallone ribattuto, recuperato ancora da Ceperano, c'è De Palla, rubata da Sarubi, occhio a due contro uno, ancora Sarubi, c'è Colantuno, sopra la posizione di potenza, ancora Sarubi, Sarubi, palla in verticale, parata tra Di Domenico, va a lungo rilancio. La palla per Pizzo, ancora Mario Pizzo, accettata da Nicolella, che termina fuori. Guarda che c'è un metro di spazio per andare a prendere. Ancora Di Domenico, mi parte da Vitiello. Vitiello cambia tutto per Ricciardi. Ricciardi avanza palla dal piede. Valla per Faglio Nicolella, va bene spazzato. Ancora di messa laterale. Ragazzi, Maglia Arancio fa la messa in mezzo, stacca Nicolella. Occhio a Colantuno, potrebbe partire in campo aperto. Prova il lancio per Sibillo, millimetrico. Sibillo, 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 tocco sotto Di Domenico, la parata. Poi Valbo De Nigris, esce, vado al piede. Verrà anche Colantuno, ancora Valbo De Nigris, vado al piede. Prova il sinistro, dichiato da Sarubi. Pallone in verticale, potenza, la gira. Ancora per Ceberano. La gira a destra. Per Galliani, che la tira in campo. Galliani lungo lancio, pallone in area di figura e stacca potenza. Poi Colantuno. Iniamo a cosa si inventa. Prova ad alzarsi, ha il palleggio di Colantuno. Partita che finisce qui. 2-1 per la Jedimax. Interrumpiamo qui il nostro collegamento. Andando anche da... Tante prestazioni opache, è lui il migliore in campo. Ugo Potenza. Ugo, appena ti riprendi comunica, ce l'ho. Vai, vai. Senti Ugo, finalmente una partita di sostanza, di quantità, ma anche di qualità. Hai trovato la tua... Insieme. La tua dimensione è finalmente una vittoria importante. Che ne pensi? Sì, è una partita sofferta, vinta di misura. Hai trovato la tua dimensione. La tua dimensione, sì. Senti, che dà c'è la ricci? Nonostante la... Nonostante l'infortunio... Posso andarmi a spogliare? Se vuoi. Nonostante l'infortunio ho corso al buon Rosario, a cui va il nostro... Ma un uomo non è in campo. Capì la vergogna proprio. Lo scandalo. Senti, un pensiero a Rosario che sei fortunato, è un vostro obiettivo. in questo torneo. Speriamo che il buon signore lo accogli a braccia aperte, perché... E se lo prenda definitivamente. E il vostro obiettivo in questo torneo? Finirlo. Eh? Finirlo senza... Completarlo. Arrivare alla fine. Terminato. Va bene, ciao. Con bocca al lupo alla Genio. Grazie a te. Ciao.